È stato un modo originale per vivere il Friday for Future, quello di 500 ragazzi delle scuole superiori di Legnago. Questa mattina alle 9 si sono ritrovati con abbigliamento sportivo in piazza della Libertà all'ombra del Torione. Dagli operatori della Sive hanno ricevuto un kit composto da guanti e sacchetti per la raccolta differenziata. Così, divisi in 10 gruppi, si sono distribuiti in diverse aree verdi del comune per raccogliere i rifiuti abbandonati. L'idea iniziale è sempre stata quella di un corteo in centro città, però secondo noi non era un'iniziativa abbastanza concreta. Quindi abbiamo pensato di fare una pulizia, quindi agire effettivamente pulendo e lavorando sul nostro territorio rendendolo migliore. Per tutta la mattinata i 500 ragazzi hanno setacciato parchi cittadini e gli argini dell'Adige. Bottiglie di vetro, lattine, confezioni di plastica, la raccolta è stata davvero fruttuosa e non priva di sorprese. I ragazzi, meravigliati da tanta inciviltà, hanno vissuto una lezione che lascerà il segno più di tante parole.